Musica Parliamo del workshop, di questi workshop che stai facendo in giro per l'Italia e quanto sono importanti questi workshop per i musicisti e gli artisti? Come cooperative Esibirsi portiamo ormai da due anni con sempre maggior numero questi workshop oltre ad altre iniziative di informazione perché riteniamo sia importante informare ed informare gli artisti e i musicisti in particolare su quelle che sono le tematiche dell'esibirsi in regola tranquillizzarli spiegando loro di chi è effettivamente la responsabilità in caso di controlli ma anche fargli capire l'importanza che c'è dietro all'esibirsi in regola che è l'unico modo poi per riconoscere effettivamente la categoria degli artisti e dei musicisti C'è molta differenza secondo te tra nord e sud sulla gestione proprio degli artisti rispetto a queste problematiche? Hai notato differenza o diciamo che tutto il mondo è paese? Tutto il mondo è paese nel senso che le domande che ci sono durante il workshop sono sempre più o meno le stesse e anche nello stesso ordine e le problematiche che gli artisti incontrano su il locale che chiede quanta gente porti oppure il locale che non ha budget o tiene i budget troppo bassi la concorrenza che va per due lire e quindi ci si lamenta perché rovina il mercato problematiche che si riscontrano un po' in tutte le zone d'Italia chi più chi meno Ieri avevo avuto un altro incontro a Catanzaro che ti sembra della professionalità non musicale ma proprio professionalità nella gestione secondo te di quello che succede nei live anche in Calabria? C'è una certa assenza non di professionalità a livello come dicevi musicale ma di conoscenza anche di certi aspetti rispetto appunto al fatto di esibirsi in regola quindi di chi deve provvedere a mettere in regola l'artista il fatto di avere un compenso che sia certificato quindi o con fattura o con altro tipo di assunzione quindi la problematica è presente ripeto come è presente in tanti altri posti d'Italia da nord a sud senza distinzione tu rappresenti una cooperativa che si chiama esibirsi rispetto a altre cooperative secondo te qual è il vostro punto di forza? Allora noi siamo nati nel 2002 quindi ormai oltre 15 anni di esperienza alle spalle siamo nati per affrontare il problema in un momento in cui c'era la convenzione tra Exempel se si ha e per quanto concerne i controlli e a suo tempo è venuto fuori un spolverone nel senso che tutti avevano paura di questi controlli e le altre cooperative d'Italia costavano tutte quante parecchio perché costavano mediamente dalle 300 alle 350 euro a musicista all'anno noi siamo entrati per risolvere quel problema ci siamo proposti subito con un costo che era un sesto rispetto alla media nazionale quello è stato il primo diciamo distinzione rispetto alle altre cooperative dopodiché abbiamo affinato il servizio e pur mantenendo il costo bassissimo noi chiediamo in questo momento 70 euro l'anno e non abbiamo proprio nessuna intenzione di aumentare il costo e nonostante il costo irrisorio forniamo tanti servizi tra cui la possibilità di essere in regola come avere una propria partita IVA quindi da professionisti avendo alle spalle una struttura come la cooperativa per quanto riguarda sia la gestione burocratica sia proprio la contabilità vera e propria sia la tutela e quindi sei inquadrato con un contratto di lavoro hai una certificazione unica che certifica il reddito che effettivamente produci fai fattura quindi il locale può scaricare interamente il tuo costo quindi tutta quella parte lì burocratica in più ci sono molti altri servizi tra cui la promozione dell'artista di recente abbiamo attivato un'assicurazione RCT che solo quella costerebbe 100 euro l'anno ad artista noi l'abbiamo mantenuta compresa dentro i 70 euro quindi sono tutelati a livello di eventuali danni a terze persone o cose durante gli spettacoli insomma cerchiamo di ampliare ogni anno di anno in anno i servizi agli artisti mantenendo in mutato il costo la differenza principale tornando alla domanda è credo la trasparenza perché credo di non sbagliare quando dico che siamo tra le pochissime cooperative in Italia che mettono anche i costi nel sito internet quindi uno non deve telefonare per sapere quanto costa le tasse che si pagano a data ma è tutto quanto in piena trasparenza presente nel sito esibirsi.it Quanto manca secondo te a livello nazionale ma anche non so se hai avuto esperienza a livello locale la cooperazione fra artisti e fra avere alcuni obiettivi comuni da portare avanti? Allora la prima cosa che ho notato nella differenza tra gli anni 90 per esempio in cui io strimpellavo non mi sono mai definito musicista per incapacità personali comunque da quando io strimpellavo da ragazzo ad oggi è forse la curiosità sia da parte del pubblico sia da parte degli artisti stessi quindi il fatto di andare ad ascoltare un gruppo che non si è mai ascoltato musica che non si è mai ascoltato quindi che non fossero le solite tribute band per dire si è persa un po' questa curiosità si punta sempre a seguire gli stessi gruppi o brani che già si conoscono e questa mancanza di curiosità riguarda ripeto non solo il pubblico ma anche gli artisti perché spesso quando faccio dei workshop quando si scalda un po' l'ambiente chiedo agli artisti quanti negli ultimi sei mesi sono andati ad almeno un concerto di un gruppo che non fosse loro le mani che si alzano sono sempre poche grazie